Ecologismo e sostenibilità ambientale sono le parole d'ordine dell'alleanza che vede insieme in vista delle elezioni del 25 settembre Europa Verde e Sinistra Italiana, con il sostegno di Possibile. Coalizione che punta a portare a Montecitorio una pistoiese, Nicoletta Guarducci, candidata nel Collegio Plurinominale 1, che comprende Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e il Mugello. Se la nostra lista otterrà, come speriamo, un risultato significativo, ha detto Daniele Cipriani, segretario provinciale di Sinistra Italiana, presentando le linee guida dell'alleanza, per Nicoletta potrebbe scattare il seggio, visto che il nostro segretario nazionale, Nicola Fratoianni, è capolista in tutti i collegi toscani e potrebbe essere eletto altrove. Nicoletta è seconda in lista e potrebbe essere lei ad andare a Montecitorio. Per il futuro del paese e di questo territorio è necessario affrontare in maniera decisa la questione del raddoppio della ferrovia e portare a termine un progetto che si trascina da anni in memoria ormai. Ci stanno molto a cuore, anzi sono delle priorità, la scuola e l'istruzione e le questioni del lavoro e delle donne.